Il genere delle avventure horror è uno di quelli che negli anni ha avuto più successo. Una buona notizia per i fan, ma è pur vero che per i titoli che approdano sul mercato è sempre più difficile emergere e farsi notare. The Chant sembra però avere tutte le carte in regola per riuscirci. Durante la Gamescom 2022 abbiamo avuto modo di provare il nuovo incubo di Brass Token in arrivo su PC e con soldi in nuova generazione il 3 novembre 2022. Seguiteci nell'oscurità. La storia inizia quando la protagonista Jess arriva sulla sperduta Glory Island per partecipare a un ritiro spirituale. A convincerla è stata la sua migliore amica Kim, che ha ritrovato la pace interiore seguendo i consigli di Tyler, il guru della scienza prismatica. Durante un canto di purificazione però qualcosa va terribilmente storto. Kim sembra essere posseduta e l'energia negativa dei partecipanti apre una porta sul gloom, una dimensione oscura fatta di orrori incomprensibili al genere umano. Se da un punto di vista del gameplay il titolo sembra molto ordinario, la sua storia e la sua ambientazione sono chiaramente un omaggio alle pellicole slasher anni 70 e l'unione dell'elemento horror con la materia New Age è affascinante. L'ultima fatica di Brustoken punta infatti su un'atmosfera inusuale costituita da un mix di azione e sopravvivenza condito da tensione costante e mistero, più che da paura. Elementi supportati anche da una veste grafica che valorizza molto gli scenari. Se le animazioni sembrano un po' incerte, l'isola è davvero molto bella, con foreste rigogliose attraverso cui filtrano i raggi della luna. L'avventura si muove su binari ludici abbastanza prestabiliti, ma integra la componente New Age nel sistema di combattimento e nel potenziamento del personaggio. Le statistiche da tenere d'occhio sono rappresentate da tre indicatori, mente, corpo e spirito. La mente è la capacità di resistere all'orrore del gloom, più saremo esposti alla paura e più questa diminuirà. Quando la mente di Jess è totalmente prosciugata, la protagonista cade vittima di attacchi di panico, perdendo la possibilità di attaccare e ritrovandosi in difesa. L'unico modo per contrastare questa eventualità è trovare un luogo sicuro e lasciare che Jess respiri e riacquisti il controllo di se stessa. Per alleviare le sofferenze della mente potremo anche utilizzare della lavanda che permette di riacquistare lucidità, oppure meditare, azione che Jess può eseguire attingendo all'indicatore dello spirito. La statistica corpo è la più tradizionale salute, che calerà quando Jess si farà male. A indebolirla sono principalmente gli attacchi fisici e per curare il corpo dovremo consumare dello zenzero. Lo spirito, infine, è l'energia interiore che la protagonista può utilizzare per ritrovare la stabilità mentale, ma soprattutto per eseguire attacchi psichici essenziali per alcuni combattimenti. Si tratta di tecniche per lo più a distanza, che permettono di rallentare il tempo per qualche istante o generare un'onda d'urto che ferisce o sbilancia i nemici. Per ricaricare questo indicatore, Jess dovrà accedere alle pietre dello spirito sparse un po' per tutta l'isola, mentre per imparare nuovi attacchi psichici dovrà liberare i suoi compagni dall'energia negativa che portano con loro. Raccogliendo invece i cristalli prismatici, il giocatore può potenziare le capacità di Jess, sia passive che offensive. Oltre agli attacchi spirituali, nell'arsenale di Jess ci sono anche armi per il combattimento corpo a corpo davvero originali. Nella ruota delle armi abbiamo visto molti spazi vuoti, con la demo che ci ha messo a disposizione solo quattro oggetti. Dei bastoncini di salvia da bruciare, dei rami incendiari, sale e olio essenziale. I primi due vengono accesi e branditi come fossero armi bianche, mentre sale e olio vengono lanciati e bloccano i nemici per qualche secondo. L'uso di sale e olio è importantissimo anche in un'ottica di sinergia con altre armi. Cospargere ad esempio un nemico di olio per poi colpirlo con un ramo incendiario incrementerà i danni inflitti. La mappa di Glory Island è caratterizzata da una zona centrale, la comune, attorno alla quale sono disposte zone satellite come la miniera o il conservificio. Mentre i percorsi esplorati nella miniera ci sono sembrati un po' troppo lineari, i sentieri nei boschi si sono rivelati decisamente più stimolanti sotto il profilo del level design. In più di un'occasione è necessario un po' di backtracking per aprire scorciatoi e andare alla ricerca di chiavi, il tutto mentre le mostruosità del gloom ci braccano senza sosta. Questa entità maligna si manifesta in due modi differenti, attraverso la presenza dei nemici e invadendo il nostro piano dimensionale. Una volta che l'entità si insedia in una zona, quest'area viene popolata da creature mostruose e una pesante foschia colorata aleggia nell'aria, e solo sconfiggendo particolari fioriture tentacolari si potrà scacciare il gloom. La parola d'ordine tuttavia sembra essere prudenza, poiché l'elemento survivor è molto marcato. Talvolta la fuga è la migliore arma a nostra disposizione, anzi, a meno che Jessa non sia costretta, evitare i combattimenti e seminare i nemici è forse la strategia migliore. Ben presto ci si rende conto che le piante officinali con cui creare le armi e curare le ferite non sono così abbondanti, e per sopravvivere è necessario gestire bene le risorse di cui disponiamo. Le fasi action risultano piacevoli senza però essere indimenticabili, e al netto di qualche animazione legnosa va segnalato che non abbiamo riscontrato nessun bug nel corso della nostra prova. The Chunt ha tutte le caratteristiche al posto giusto per essere un'esperienza davvero diversa dal solito. La deriva New Age è apprezzabile, elemento che unito alla componente horror e survival conferisce al titolo una sua originalità. Il resto dei tasselli che compongono il gameplay risulta piuttosto ordinario ma ben eseguito, nonostante qualche animazione scricchiolante. Voi cosa ne pensate? Con questo biglietto da visita a The Chunt può ambire a un posto di rilievo nel panorama degli horror? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su sito, social e ovviamente qui su YouTube. Qui accanto alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie e alla prossima!